Nella precedente clip vi ho parlato della mia crescita come pilota multiruolo e in particolare per quanto riguarda la caccia, quindi tutta quell'attività che riguarda l'impiego degli aeroplani per contrastare altri aeroplani del nemico quando sono in volo. Ora vi parlerò invece dei miei ultimi ruggiti lì al VMA 542 prima di passare sulla V8B+, quindi questo aereo, questo Harrier che ha rappresentato una rivoluzione dal punto di vista del suo impiego. Il mio interesse nella caccia fu molto utile al VMA 542 perché a un certo punto fu deciso da parte dei Marines che il VMA 542 sarebbe stato il gruppo di volo che avrebbe ricevuto per primo il nuovo aeroplano, la V8B+, e l'avrebbe ricevuto nel 1993, quindi praticamente sarebbe stato l'anno dopo. Quindi l'introduzione di questo nuovo aereo avrebbe rappresentato una rivoluzione perché il radar, come ho già detto precedentemente, sarebbe stato finalmente integrato nell'aeroplano ed era il radar che al tempo sostanzialmente impiegava anche l'F-18, quindi un radar splendido radar a cui avrebbe fatto seguito anche l'integrazione del missile a medio raggio AMRAM. Quindi di fatto l'Arier cominciava a diventare veramente un assetto molto interessante anche proprio per l'impiego nel ruolo di caccia. Quindi il VMA 542 insomma diventò un po' la culla, la culla di questo nuovo aeroplano e io avevi proprio la fortuna di, come anticipai qualche clip fa, di essere al posto giusto, nel gruppo giusto proprio in occasione dell'ingresso di questo nuovo aeroplano. Io nel frattempo oltre ad aver acquisito maggiore esperienza nel settore aria-aria avevo acquisito anche delle importanti qualifiche, prima quella di capocoppia, poi quella di capoformazione. Quindi nel gruppo mi utilizzavano molto anche per fare da istruttore a favore dei giovani piloti dei Marines e quindi accumulai anche, ebbi l'opportunità di accumulare una bella esperienza anche come istruttore. Tuttavia anche durante questo periodo non mancai di sfruttare delle opportunità per fare dei combattimenti uno contro uno contro dei velivoli da caccia certamente più capaci della V8. Parlo della V8, non abbiamo ancora, diciamo, la V8 B+, quindi tutti i limiti di cui ho già parlato, in particolare l'assenza del radar. Un bel giorno ho deciso di organizzarmi un combattimento con un F-15 dell'aeronautica americana appartenente al 27esimo Fighter Squadron con base a Langley nella Virginia. Una base storica per gli Stati Uniti perché è stata fondata nel 1916, quindi veramente agli albori. E questo gruppo di volo dipendeva dal primo fighter wing, il cui motto era Out vincere, Out mori, quindi o vinci o muori. Quindi diciamo che me l'ero scelto proprio bene questo gruppo, questo contesto per andare a sperimentare le mie tattiche che mi ero preparato nei giorni precedenti perché chiaramente mi rendevo conto del peso dell'avversario, mi rendevo conto di essermi lanciato in una missione suicida e quindi ho detto qua le devo provare tutte. Quindi spesi un paio di missioni per approfondire e rendermi più capace nell'impiego degli ugelli in combattimento aereo. Adesso non voglio essere ripetitivo perché vi ho già raccontato come si impiegano gli ugelli in una precedente clip che mi invito eventualmente a andare a rivedere. Però feci un po' di prove con l'impiego degli ugelli per cercare di stringere queste virate. Ho spiegato anche che gli ugelli possono essere utilizzati anche per frenare utilizzando il motore, l'avanzata, la velocità dell'aeroplano, quindi cercando anche di farsi poi superare dall'avversario, anche se quella chiaramente era una tattica un po' estrema. Però insomma le provai tutte perché ritenevo che fossero fondamentali affinché potessi sopravvivere o eventualmente auspicabilmente prevalere nei confronti di un F-15. Quindi partii per Langley, era una bella giornata di sole, la base peraltro era sul mare, quindi era circondata in gran parte dal mare. Io feci questo avvicinamento arrivando dal mare, mi trovai in questo piazzale enorme pieno di aeroplani. D'altra parte era un venerdì, quindi l'attività era un po' rallentata, veramente uno scenario spettacolare. I colleghi dell'aeronautica americana furono davvero molto ospitali, mi portarono all'aula briefing dove incontrai il mio avversario che era un pilota molto esperto e mi spiegò che quello era il suo ultimo giorno lì al gruppo perché poi avrebbe lasciato il servizio e quindi era un pilota esperto, arrivato proprio alla fine della sua carriera di pilota militare. Immaginavo che lui volesse coronare questa sua parte finale di carriera, però non mi feci intimorire, avevo un piano ed ero determinato a portarlo a termine. La missione era un uno contro uno BFM, quindi Basic Fighter Maneuver, quindi praticamente era un combattimento a vista, per cui erano degli ingaggi in cui non si giocava tutta la parte di impiego dei missili a medio e lungo raggio, ma praticamente si partiva relativamente vicini per potersi subito andare uno contro l'altro, incrociarci e poi da lì ovviamente cominciare con le nostre manovre. Quindi combattimento a vista, in cui l'F-15 non poteva usare il radar perché era inutile, evidentemente non poteva usare missili a medio e lungo raggio perché non c'erano il range per poterlo fare. Quindi sostanzialmente potevamo impiegare i rispettivi cannoni. Lui aveva un cannone da 20 mm, classico cannone aria-aria. Io avevo il cannone da 30, che è quello dell'Arier, è da 30 perché viene utilizzato anche nell'attacco al suolo e quindi aveva un calibro maggiore. Avevamo il Sidewinder, quindi missile a corto raggio infrarosso. Io avevo due occhi, lui ne aveva quattro perché ci aveva anche due occhi del Weapon System Officer, però noi piloti in monoposto siamo soliti a dire che i loro quattro occhi, cioè due di questi quattro, sono con le stanghette perché mediamente il Weapon System Officer ha gli occhiali. Quindi poi è chiaro che non eravamo in parità perché sì, vero, cannone, missile a corto raggio, due occhi contro quattro, di cui due con le stanghette, però lui aveva un F-15, quindi un aereo decisamente prestante e lui era molto più esperto di me, quindi c'era un divario di capacità sia nell'aeroplano che nel pilota. Io durante questo combattimento misi in opera le mie tattiche di thrust vectoring, ossia di movimento degli ugelli per stringere le virate e quant'altro. Non mi trovai in condizioni di usare gli ugelli da freno, quindi non mi trovai nell'esigenza di utilizzare questa manovra disperata che sì, può migliorare la mia posizione relativa rispetto all'avversario, però mi mette poi in condizioni di energia molto limitata, quindi nell'ipotesi di presenza di un altro avversario uno fa veramente una brutta fine, ma non mi trovai in condizioni di doverlo fare. Riusci sorprendentemente ad avere successo nel complesso in questi ingaggi che abbiamo fatto. Quindi ero veramente ai settimicieli, ero trionfante, stavo ritornando in trionfo alla base di Langley, contento anche di poter avere poi un confronto con il mio avversario, però mi attendeva una trappola. Arrivai, feci il mio atterraggio venendo dal mare, diressi per il punto di parcheggio, arrivai, spensi il motore, faceva parecchio caldo perché ormai l'aria cominciava a scaldarsi, ero chiuso nella mia cabina e non vedevo l'ora di aprirla, spento il motore, aziono la leva per aprire la cabina, ma non succede nulla. Insomma, sta cockpit non scattava all'indietro per darmi aria, ma ero praticamente intrappolato dentro l'aeroplano. A quel punto lì ho cercato di spiegare a gesti, a quelli che stavano a terra, personale dell'aeronautica, qual era il problema, mentre cercavo un attimo di capire come si è come fare a saltare fuori da questa cabina. A un certo punto alzai gli occhi e praticamente vidi un energumeno di colore che si avvicinava verso di me armato di asce. Quindi a quel punto lì incrociai le braccia così davanti al volto per fargli capire di non avvicinarsi all'aereo perché non avevo certo intenzione di farmelo sfondare a colpi di ascia dopo che peraltro avevo avuto anche un confronto in aria con l'F-15 che insomma era andato piuttosto bene. Quindi riuscì. Nel frattempo avevo capito qual era il problema perché guardando attraverso lo specchietto di spezione che c'era sul lato sinistro avevo notato che quando azionavo la leva per aprire la cabina il gancio di blocco non si alzava ma rimaneva abbassato, mentre invece nello specchietto di destra il gancio si muoveva regolarmente. Quindi a quel punto lì ebbi una grande pensata utilizzai uno strumento vietato che avevo nella tasca superiore sinistra della tuta ossia un cacciavite. Io con questo cacciavite riuscii a far saltare il vetrino di spezione che era incollato con del sigillante e praticamente poi una volta tolto il vetrino col cacciavite riuscii a fare leva in modo tale da alzare il gancio di sblocco e in quel momento la cabina improvvisamente schizzò all'indietro e io riuscì finalmente a prendermi una bella boccata d'aria. Ne avevo bisogno perché ormai avevo raggiunto la temperatura di friggitura. Quindi arrivai un po' in ritardo al debriefing spiegando un po' le mie ragioni e devo dire che fu un debriefing molto onesto. Fui molto colpito dall'onestà anche di questo pilota che alla fine della sua carriera si è trovato con del filo da torcere e non se l'era aspettato certamente. Addirittura questo pilota mi volle invitare al saluto che lui avrebbe fatto di lì a poco ai suoi colleghi del 27esimo fighter squadron. Quindi partecipai a questo saluto e mi sorprese un'altra volta perché lui durante il suo discorso di saluto a un certo punto mi chiamò in causa facendo riferimento all'esito della nostra missione di BFM dicendomi insomma scherzosamente accusandomi di avergli rovinato un po' il suo ultimo giorno di servizio presso il gruppo. A questo punto alla fine insomma gli ho dato una stretta di mano di quelle che non si lamentano e non si dimenticano e mi fiondai alla linea dove c'era il mio aeroplano per chiamare poi il gruppo di volo VMA 542 e spiegare un po' l'accaduto. La mia intenzione era quella di farmi riparare l'aeroplano dal personale dell'aeronautica che però tuttavia non era abilitato a mettere le mani sull'Arier anche perché il lavoro era abbastanza banale e poi rientrare alla base di Cherry Point il giorno dopo perché avrei dovuto aspettare che il sigillante si asciugasse prima di poter andare in volo. Beh lì mi hanno fatto un po' di resistenze perché il gruppo di volo voleva già mandarmi un rescue team per salvarmi con degli specialisti abilitati e quant'altro poi alla fine mi diede l'oretta. L'unico limite mi fu dato sulla velocità e sulla quota massima da utilizzare per il rientro in base ma insomma tutto andò per il meglio. Poi si chiaramente investigarono in merito a questa avaria abbastanza particolare che mi era capitata. Vi ho già parlato di quella del blackout totale in volo. Questa non era certo così devastante però insomma avrebbe potuto creare dei problemi e scoprirono che praticamente era stata messa una coppiglia sottodimensionata rispetto a quella prevista che si era rotta prematuramente bloccando il leverismo per aprire la cabina. Fecero un controllo a quel punto su tutti gli aeroplani dei Marines e trovarono diversi aeroplani che avevano questo problema quindi ancora una volta riuscì a dare un contributo alla comunità per rendere questo aeroplano un po' più sicuro per i piloti di aria. Ecco un'altra attività importante della quale vi voglio parlare. Ah un'ultima cosa. Quando andai la mattina dopo all'aereo per tornare a Cherry Point mi accorsi che sulla coda del mio aeroplano era stato appiccicato uno stemma gigantesco del 27esimo fighter squadron e quindi me ne tornai a Cherry Point in quella livrea insomma con lo stemma del 27esimo che spiccava sulla mia coda. Un'altra attività di cui vi voglio parlare è il rifornimento in volo col C-130. Tutti quanti conoscevamo insomma il C-130, averivolo plurimotore e il ruolo di rifornitore. Eravamo in coppia, io ero il capo coppia, mi portavo con me un giovane pilota dei Marines. l'area di addestramento era sul mare, il C-130 era già pronto a riceverci, aveva i suoi due tubi manichette, li chiamiamo noi, due tubi neri per il rifornimento alla fine dei quali c'è il cestello che va agganciato con il probe dell'aeroplano. Quindi era pronto a riceverci. A me assegnarono il cestello di destra, che era quello più facile perché il probe della V8, come vi ho spiegato, è qui sulla sinistra, quindi prendendo il cestello di destra uno si trova a traguardare il probe col cestello di destra e vede tutta la sagoma dell'aeroplano. Quindi è più facile mantenere la posizione perché si ha un sacco di riferimenti. La posizione di sinistra invece è molto peggio perché il pilota è sempre costretto a guardare verso sinistra, però l'aeroplano sta a destra, per cui si ritrova a vedere un pezzo di ala e i riferimenti sono davvero pochi. Quindi io infilzai il mio probe nel cestello di destra senza problemi, andai avanti un paio di metri e cominciò il rifornimento. Una volta stabilizzato gettai un occhio sul mio gregario e lo vedevo cavalcare un cavallo imbizzarrito perché il suo aeroplano faceva i numeri più strani e lui non riusciva a infilzare questo benedetto probe all'interno del cestello. Tant'è vero che arrivai alla fine del mio rifornimento e a quel punto chiesi di sganciarmi dalla mammella del C-130 per lasciare quella posizione al mio gregario e così feci. Poi visto che dovevo stare in attesa del rifornimento del mio gregario chiesi di provare degli agganci sul cestello di sinistra. Devo dire che sì, in effetti era più difficile, decisamente più difficile sul lato sinistro, però ero forte dalla esperienza acquisita sul cestello di destra e insomma riuscì ad agganciarmi senza grandi problemi. Non potevo vedere il mio gregario, però sentivo le comunicazioni radio fra lui e il C-130 e da queste comunicazioni si capiva che lui stava avendo dei problemi anche sul cestello di destra, quindi probabilmente un po' anche a causa della frustrazione sul cestello di sinistra c'era un po' di tensione. Ora con questo vi ho raccontato questo, non certo per screditare il mio gregario, che poveraccio era un giovane pilota dei Marines che si stava formando, ma vi ho voluto raccontare questo perché per farvi capire la difficoltà anche del rifornimento in volo. Ora quella era una bella giornata, era giorno e quindi immaginatevi un rifornimento notturno, magari un rifornimento con condizioni meteorologiche particolarmente impervie, ma immaginatevi pure un rifornimento dove in una zona di operazioni particolari, dove in caso di mancato rifornimento in volo non ci sono alternative perché non è possibile andare a terra in emergenza su una base che ci possa accogliere per poter rifornire. Quindi questo per farvi capire che per il pilota militare il rifornimento in volo non è una passeggiata. Un'altra cosa che mi fa piacere raccontarvi è la Carrier Qualification che fece il 25 di giugno del 1992 sulla nave di assalto anfibio Guam, una nave da 19.000 tonnellate, 184 metri di lunghezza e 26 metri di larghezza, una nave che è stata consegnata alla marina americana nel 1965 e una nave molto simile al Garibaldi come dimensioni, quindi mi sarebbe stata molto utile anche poi per il mio rientro in patria. Una nave che si era subito resa famosa perché dopo la consegna alla marina americana praticamente andò a recuperare gli astronauti Conrad e Gordon dal mare e poi in tempi più recenti partecipò alla Desert Shield, Desert Storm. Ecco, l'unica differenza rispetto al Garibaldi è l'assenza dello ski jump, quindi quel trampolino che abbiamo a prora delle portaeree italiane. Certamente la Carrier Qualification con l'Arier è molto più semplice rispetto alla Carrier Qualification che vi ho raccontato in due clip diverse con l'aereo T2, mi riferisco agli appontaggi con i cavi di arresto e i decolli con la catapulta, perché come vi ho già raccontato in un altro clip, non sto a ripetermi, con l'Arier sostanzialmente si fanno soltanto degli appontaggi verticali e dei decolli rullati con la propria potenza senza utilizzare la catapulta. Quindi certamente più facile, ma certamente un'esperienza straordinaria. Quella era la prima nave che toccavo con l'Arier, quindi un momento certamente importante. Una cosa interessante, una volta arrivato sul ponte di volo mi hanno dato le indicazioni per andare a parcheggiare il mio aereo, dopodiché quando avevo ancora al motore in moto è arrivato un team di energumeni che ha messo le mani sull'ala e ha cominciato a spingere in modo tale da portare il mio aeroplano al bordo del ponte di volo per aumentare gli spazi a disposizione sul ponte centrale. È una cosa che non mi aveva sorpreso perché mi avevano appunto detto che c'era questa prassi, quindi ero pronto a vedere queste persone all'opera in tal senso. Interessante anche il fatto che sceso dall'aereoplano sono stato accolto anche da personale italiano perché c'erano degli italiani della marina imbarcati sul Guam e poi di questa esperienza della Carrier Qualification si parlò anche sul Windsock che era un giornale locale della base di Cherry Point in cui mi menzionarono perché ero l'ufficiale più anziano a bordo di questa nave per questa attività. Un'ultima cosa di cui volevo parlarvi sono le road operations, ossia le operazioni con l'arrier fatte da normali strade per la circolazione delle auto. Per questo addestramento si andava a Camp Lejeune che era una base dei Marines un po' più a sud rispetto a Cherry Point e si utilizzava a Limon Road. Praticamente questa era una strada per il traffico normale all'interno della base. Veniva bloccata in modo tale da sospendere il traffico. Ecco il disagio che veniva creato agli occupanti delle automobili era relativo perché erano persone che uscivano dalla macchina e si gustavano lo spettacolo degli arier che decollavano e atterravano e praticamente si atterrava su questa su questa strada che era praticamente infilata in mezzo agli alberi e anche lì quando si scende sotto la chioma degli alberi anche l'effetto del vento cambia molto sia come intensità che come direzione. Quindi il pilota deve essere sempre pronto a reagire e a correggere la posizione anche perché come vedete dalle fotografie gli spazi sono veramente molto limitati. Non c'è molto spazio fra le ruote esterne e il limite della strada. L'atterraggio e il decollo sono una via di mezzo fra il verticale e il corto perché sull'asfalto non si può atterrare verticalmente perché le pressioni in gioco, le temperature potrebbero staccare dei detriti che poi verrebbero aspirati dal motore. Non si può arrivare con un decollo e atterraggio corto perché la velocità è eccessiva. Quindi si fanno i cosiddetti rolling vertical landing, quindi sono dei decolli che degli atterraggi attorno ai 30 nodi, quindi che vengono fatte a una velocità che consente anche di controllare bene l'aeroplano. Stessa cosa per il decollo, è un decollo rullato durante il quale si stacca 30 nodi sostanzialmente. Quindi queste le road operations sono una peculiarità chiaramente dell'Arier. Concludo per dirvi, ritornando un po' al mio combattimento con l'F-15. Chiaramente ero molto contento, molto soddisfatto di quello che avevo fatto, ma in tutta onestà posso dirvi che la mia soddisfazione era stata superata dal piacere di aver incontrato un uomo vero, un uomo raro, un uomo dotato di umiltà che mi ha colpito. Quindi un incontro toccante dal quale tutti quanti penso abbiamo imparato, tutti quelli che erano presenti a questo momento di saluto. L'umiltà è una cosa molto importante secondo me. L'umiltà non è un segnale di debolezza, ma anzi è un segnale davvero di grande forza. Mentre invece, diciamo, la laboriosità, l'arroganza e quant'altro sono spesso dei segnali esattamente opposti. Segnali, comportamenti che tendono a nascondere l'incompetenza, l'incapacità. Quindi è importante essere umili, tutti quanti noi. Non è un segno di debolezza, ma anzi è un segno di grande forza. Vi invito a vedere anche la prossima clip dove da tigre divento un lupo perché lascio il gruppo di volo VMA 542, il gruppo delle tigri, per diventare poi un lupo del gruppo aerei imbarcati, che come simbolo ha il lupo, ed è il gruppo di volo degli Harrier della Marina. Grazie.